Il Volontariato Siamo abituati a pensare al volontariato come qualcosa di sempre positivo. Oggi vi mostro il suo lato oscuro e come rimediare. Quando avevo 20 anni, partii per la mia prima missione di volontariato in India. pagai una grande organizzazione internazionale e fui mandato in questo piccolo orfanotrofio nel sud del paese lì incontrai un bambino di nome Anthony Anthony era stato abbandonato dalla madre a un padre disturbato mentalmente che poi l'ha abusato in quei tre mesi io e Anthony ci siamo legati quello che non sapevo da ventenne non preparato, non supervisionato è che una volta finita questa missione il distacco sarebbe stato un secondo abbandono per il bambino un secondo trauma e così fu, Anthony fu distrutto la domanda è potremmo farlo qui? insomma, accetteremmo mai un volontario indiano senza qualifiche, senza supervisione in una delle nostre scuole con i nostri bambini? se la risposta è no perché noi possiamo farlo nel terzo mondo? quando a vent'anni io ero un volonturista il volonturismo è un fenomeno che coinvolge oltre 20 milioni di persone al mondo ogni anno per un business di oltre 170 miliardi di euro la parola nasce dalla commissione di volontariato e turismo cosa significa? significa mettere al centro dell'equazione il volontario anziché i beneficiari, anziché la comunità aiutata il volontario con le sue esigenze, con i suoi desideri, con la sua gratificazione qua vediamo quella che è la spesa di una di queste grandi associazioni internazionali di volonturismo solo la parte gialla finisce sul luogo, viene donata, viene impiegata sul luogo che si intende aiutare e non tutto arriva all'associazione parte va per il viaggio insomma gran parte dei soldi che questi volontari ben intenzionati ma ingenui versano all'organizzazione vengono assorbiti dalla burocrazia esempi di volonturismo sono la ragazza in Tanzania che costruisce una biblioteca di giorno solo perché muratori locali di notte la smantellino e la ricostruiscano come si deve, in silenzio un altro esempio è il tour operator di Nuova Delhi che per 50 euro ti permette di andare in una baraccopoli scegliere una famiglia povera di tuo piacimento e dare loro il cibo, come se fossi allo zoo un altro esempio sono gli orfanotrofi in Cambogia pieni di finti orfani bambini che hanno padre e madre ma sono tenuti in condizioni di degrado per generare compassione e ricevere fondi tutto questo si sostanzia in un concetto chiamato pornografia della povertà il che significa esasperare e privare dell'umanità queste comunità di modo da generare compassione, pietà e di nuovo fondi, denaro scusate sono un po' emozionato come invertiamo la rotta dopo aver finito la mia prima missione di volontariato in India sono tornato in Italia e ho deciso di mettere a frutto quelli che davvero erano i miei talenti non insegnare, non giocare con i bambini ma raccogliere fondi e sensibilizzare, parlare con la gente dopodiché ho deciso di trasferirmi in India e di restare sono stato in India per quattro anni non per insegnare ma per imparare quest'anno sono tornato, l'anno scorso sono tornato in Europa e quest'anno ho fondato la mia associazione di volontariato che promuove anziché il volonturismo il volontalento cos'è il volontalento? Il volontalento è la commissione, l'unione tra l'analisi dei bisogni concreti della comunità che vogliamo aiutare e una selezione attenta delle competenze dei volontari c'è una citazione molto bella di Buckminster Fuller che dice, parafrasata che è inutile combattere la realtà esistente quello che bisogna fare è inventare un nuovo modello che renda il modello esistente e obsoleto per fare questo abbiamo fondato Masì Masì è il volontalento concretizzato Masì è la prima scuola per bambini e adolescenti rifugiati del campo profughi di Samos in Grecia la domanda è perché? e perché è la domanda principale del volontalento perché fondare Masì? perché noi crediamo nell'importanza di ripristinare il diritto fondamentale all'istruzione di questi bambini di bambini che sono sfuggiti dalla guerra sono arrivati in Europa sperando in una vita migliore si trovano imprigionati in un campo profughi costruito per 700 persone in cui ne vivono ora 4.000 questi bambini stanno anche per un anno nel campo profughi vivono con le loro famiglie a volte in tende a volte senza tende quando non c'è disponibilità attraverso l'inverno senza scuola questo è il punto principale quindi quello che abbiamo fatto è abbiamo analizzato la situazione e cercato di capire i bisogni reali di queste persone e i bisogni sono tre istruzione, formazione, sicurezza e questo noi cerchiamo di soddisfare i destinatari sono questi bambini che se non vengono aiutati avranno già perduto il loro passato perché la guerra, la migrazione, gli abusi che soffrono ora ma senza un intervento perderanno anche il futuro questa è la realtà a meno che qualcuno faccia qualcosa come vi dicevo gli obiettivi di Masì che è questa sono tre numero uno l'istruzione, didattico Masì funziona come una scuola normale come quella che abbiamo qua a Bologna nel resto dell'Italia nel resto dell'Europa ovvero insegniamo inglese, greco, storia, matematica geografia, scienza, educazione sessuale civica, arte, musica insomma una scuola normale inoltre quello che noi però pensiamo sia fondamentale è dare a questi bambini la possibilità di sopravvivere e integrarsi quindi è formativo i nostri insegnanti insegnano non solo queste materie che ho appena elencato ma anche igiene mentale intelligenza emotiva come gestire il fallimento cose semplici come gestire le finanze come gestire le proprie interazioni interpersonali quello che noi puntiamo ad ottenere è l'autosufficienza dei nostri studenti quello che pensiamo sia uno dei più grandi crimini dell'aiuto umanitario internazionale è che lucrano sulla dipendenza delle persone che aiutano ovviamente se tu non hai più una clientela non hai più un recipiente il tuo business è finito per cui è nel tuo interesse continuare a poter offrire questo servizio il nostro obiettivo è rendere questi bambini questi ragazzi indipendenti tre la sicurezza Masi non è semplicemente una scuola o un posto in cui facciamo mentoring è anche un posto in cui offriamo un'alternativa sicura agli abusi del campo Masi è aperta dalle 8.45 di mattina fino a sera i bambini possono restare lì a giocare a riposare e a mangiare offriamo cibo perché alcuni di questi bambini a volte vanno a letto senza cena vanno a letto affamati perché non c'è abbastanza cibo per tutti nel campo ora come possiamo fare questo? il punto cardine sono i nostri volontari il punto del volontalento è che si incentra sul talento e sull'abilità della persona che selezioniamo quindi la selezione è cardine noi non diciamo ok hai del tempo da spendere questa estate vieni e gioca con i bambini no diciamo questo è il nostro bisogno hai questo talento per favore vieni quindi noi facciamo una selezione molto scrupolosa chiediamo un coinvolgimento minimo dai volontari perché è importante ricordare che i problemi non sono mai la povertà o la malattia sono sempre i sistemi che li alimentano i sistemi non si possono cambiare in un mese e terzo prima ancora che i nostri volontari possano interagire con i bambini noi offriamo un training intensivo di tre giorni per cui quando il volontario arriva finalmente ad interagire a lavorare veramente è innanzitutto ben equipaggiato ed è sicuro e ci possiamo fidare ovviamente questo sistema di recruitment di selezione è piuttosto esigente come si traduce nella esperienza del volontario stesso è che quando il volontario arriva perché ci fidiamo di lui perché crediamo nelle sue potenzialità perché sappiamo che è la persona giusta per questo lavoro il volontario riceve responsabilità crediamo molto nella delega dei poteri nella delega delle incombenze per cui per esempio il volontario può gestire la sua classe se è un insegnante la sua classe come meglio credi impiegare i metodi di studio che preferisce seguire il curriculum che preferisce e gestire gli studenti secondo la sua creatività in secondo luogo pensiamo che questo crei un'atmosfera un ambiente di sicurezza di appartenenza per cui il volontario si sente parte di un team e non è semplicemente qui per la gratificazione o per le foto di Instagram questo ovviamente questo sistema di personale si traduce anche nell'organizzazione il volontalento si riflette anche sulla gerarchia sulla struttura per esempio noi presentiamo una gerarchia completamente orizzontale che significa non crediamo in una gerarchia piramidale per cui quando abbiamo un meeting il volontario l'amministratore eppure gli studenti attraverso rappresentanti votati possono partecipare e votare hanno potere decisionare e il mio voto e il tuo voto e il loro voto ha lo stesso potere questo è importante perché crediamo che i beneficiari ovvero le persone che aiutiamo abbiano il diritto e il potere di avere di essere ascoltati il volonturismo crede o meglio ci propina questa idea di volontari occidentali che arrivano e insegnano non importa se non siano qualificati se siano dei liceali arrivano e insegnano al terzo mondo perché sanno di più mentre noi rifiutiamo questa concezione e promuoviamo un'idea per cui nessuno nessuno potrà sapere conoscere meglio i bisogni della comunità se non la comunità stessa infine perché il volontalento richiede impegno e sacrificio a volte c'è la possibilità sempre per un volontario che sia eccellente di essere assorbito all'interno dell'organizzazione per cui non essere volontario ma diventare parte dello staff questa porta è sempre aperta per un volontario che sia meritevole per esempio tutti noi lo staff della mia associazione siamo tutti ex volontari questo questo chiaramente crea un ambiente di appartenenza non solo al progetto singolo per cui ai mesi in cui il volontario opera ma alla causa al movimento in conclusione io penso che sia io credo fermamente che sia necessario e molto importante educare i volontari e le organizzazioni le associazioni a un volontariato etico sia importantissimo cominciare a pensare ai problemi non come loro ma come nostri perché noi siamo appartenenti in alcuni casi allo stesso avvicinato stessa città stesso paese razza specie penso che sia importante perché quando comincia a pensare ai loro problemi come nostri perché sono nostri comincia a imparare comincia a capire che non siamo qua per aiutare ma siamo qua per costruire insieme e il bello dell'educazione è che non dobbiamo aspettare il permesso di questo qual potente o la situazione perfetta possiamo cominciare ora grazie 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 a tutti grazie a tutti